Sono abbastanza orgogliosa di questo traguardo raggiunto. Devo semplicemente e subito ringraziare gli enti finanziatori, quale la Fondazione Team, che ha creduto nella nostra idea progettuale, ai progettisti, quale lo Studio Aurea, che ci hanno permesso e che hanno sposato la nostra idea. Questo progetto è un progetto che praticamente ha due elementi essenziali, i quali il supporto psicologico ai soggetti con disabilità e le nuove tecnologie. Sono davvero orgogliosa perché oggi le nuove tecnologie ci offrono delle soluzioni per raggiungere un'autonomia essenziale. Quindi ciò che comporta la malattia è una situazione, è una condizione che ci crea dei limiti. E quindi superare questi limiti per noi è un traguardo non indifferente. Quindi sono abbastanza orgogliosa che possa essere un progetto pilota e che possa diventare come un progetto di esempio anche per altre realtà. Ci credo tanto e ringrazio a chi ha creduto in questa idea progettuale. Il progetto consiste di varie fasi di attività. In questo primo evento, durante la conferenza stampa, cercherò di delineare in particolare ogni singola fase. Dura in 18 mesi e saranno 18 mesi abbastanza intensi che vanno dalla comunicazione al monitoraggio fino alle proprie fasi principali. Si inizierà con il reclutamento dei destinatari che sono il fulcro di questo progetto. Saranno appunto 800 persone con disabilità, in particolare affette da malattie neuromuscolari, divise fra le due grandi regioni pilota, la regione Lazio e la regione Sicilia. Abbiamo cercato di rispondere non soltanto alle persone con disabilità, ma anche ai loro caregiver. E quest'altra parte di popolazione che vive quotidianamente con queste persone. Anche loro hanno qualcosa da offrire, da darci e noi dall'altro lato abbiamo appunto il compito di rispondere alle loro esigenze. L'accettazione della disabilità è un problema che non soltanto della persona con disabilità, ma anche dei caregiver. Quindi quando appunto arriva questa diagnosi è un problema generale che colpisce tutta la famiglia. Ed è bene, abbiamo pensato, che tramite questo progetto ci siano delle attività di psicoeducazione rivolte appunto ai caregiver. Cioè come possiamo aiutarli, il sostegno psicologico che deve essere dato non soltanto alle persone con disabilità, ma anche ai loro caregiver. E dall'altra parte invece abbiamo questa app, che è un'app appunto di tecnologia innovativa, che considera alle persone con disabilità, quindi ai destinatari diretti, ai caregiver, ma anche diciamo a tutti coloro che faranno richiesta durante il progetto, di sostegno psicologico. Ci sarà una terapia online personalizzata su richiesta attraverso diciamo questa app innovativa. Grazie a tutti.